Si tratta di avere molte piante in un appezzamento di terra e possiamo arrivare a un massimo di circa 1600 piante per ettaro. Soprattutto bisognerà stare attenti alle concimazioni, onde evitare che la pianta cresca troppo e poi non potremo più effettuare le nostre operazioni meccaniche, quali raccolta, quali potatura e quali manutenzione del sesto di impianto. Le varietà che si sono poi date le loro caratteristiche espanse in tutto il mondo, quindi le troviamo in America, le troviamo in Cile, le troviamo negli ultimi tempi anche in Italia.